Scadenza progetto per attività socialmente utili. È questo l'oggetto della lettera indirizzata ai lavoratori che si occupano della manutenzione del verde presso l'asi di Gela che tradotto in soldoni vuol dire fine del lavoro e incertezza per il futuro. Così i 27 lavoratori presidiano già da qualche giorno l'ingresso dell'ora a questo punto ex posto di lavoro e attendono una risposta per poter capire se continuare a contare su quella seppur modesta remunerazione mensile ricevuta in 18 anni fino ad oggi oppure no. Il progetto è stato prorogato fino a dicembre solo che non c'è la copertura finanziaria e giustamente ci hanno sospeso. I problemi sono così difficili che ci hanno chiuso fino all'orologio qua non ci hanno fatto temperare e ci hanno fatto fare delle lettere di sospensione ci hanno fatto fermare dopo 18 anni dopo 18 anni che siamo qua ci stanno trattando come le pecore qua nessuno si interessa di noi qua ci hanno abbandonato tutti tutti se ne stanno fregando. perché se in prima non arriva la gecolare con i fondi per pagarci. Noi abbiamo fatto come abbiamo detto il suo collega la richiesta una lettera firmata da noi tutti di lavorare sotto responsabilità nostra quando arrivavano i soldi poi ci pagavano e loro ci hanno risposto negativamente ci hanno bruciato. Gli altri anni gli altri mesi ci hanno fatto lavorare ci hanno preso loro la brigata responsabilità quest'anno e questo mese niente chiuso tutto siamo qua per aspettare la risposta e poter lavorare subito perché se si passa il 15 ottobre poi non lo so come finisce. Ieri ci siamo messi in contatto con il periodico e il dottore Arancio la risposta niente risposta. Come proseguirà la protesta? Proseguirà sempre che stiamo qui ogni mattina per sapere se ci sono delle novità. Stiamo interpellando pure i nostri politici sperando che si facciano sentire pure loro e che si facciano sentire direttamente dove alla fonte di questi di questi problemi.